E questa è la mia arma di seduzione. No! No! Sì, ma tu non sei mica normale, sai? Mi nascondi. L'unica cosa grave è che si scivola. Ci ha fregati. Piero, devi far asciugare perché sennò cado, no? Eh, sì, anche perché guarda come vado. Tenta a non cadere, Gemma. No, no. Non camminare, non camminare che c'è il sapone. Ecco, no, ma ti conviene uscire dal sapone, Gemma. Eh, scusa. Ti conviene uscire dal sapone, ecco. Sì, così faccio la figura della papera. Certo che faccio la figura della papera perché scivolo. Ma da dove è passata? Dalla dietro. Questa è la possibilità. Sembrava un ospite del parterre. Ma che ci fai con la spugna in mano ancora? Eh, volevo restituirla. L'aspetta. E la dietro, vantala. Restituirla ammittente. No, volevo restituirti la spugna, eh, comunque. Si sta vergognando adesso. Eh. Si sta appiattendo come un'acciuga dietro qualcosa che non so che cos'è. Beh. Ma dov'è? Esci se hai il coraggio invece di star lì a ridacchiare, guarda. Grazie. 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 Grazie.